Si aprono da oggi le somministrazioni per le quarte dosi per tutti gli immunodepressi. Basterà recarsi ai centri hub della provincia, dovranno essere passati quattro mesi dall'ultima inoculazione. Partono pure le prime dosi di Nuvaxovid, il vaccino che non ha RMNA. Sono già otto le prenotazioni al hub di Caltanissetta. Ogni flacone contiene dieci dosi, dunque si arriverà a dieci prenotazioni prima di aprire un flacone perché il tempo in cui potrà tenersi aperto è soltanto sei ore. Con la consegna di 84.000 dosi avvenuta domenica, comincia da ieri in tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e su disposizione dell'assessorato regionale alla salute. Il nuovo vaccino potrà essere utilizzato su tutti i soggetti a partire dai 18 anni di età che non si sono ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-Covid. Nuovax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra, ovvero 21 giorni.